Giampaolo Vietri è candidato al Consiglio regionale con Fratelli d'Italia a sostegno del candidato presidente Raffaele Fitto. Il suo slogan è Cultura, lavoro, sviluppo, ricostruiamo il futuro. E allora iniziamo, consideriamo questi punti partendo dalla cultura. Io credo che la cultura sia un asse fondamentale, credo che un territorio deve preservare quelle che sono le proprie radici, tradizioni, i propri tesori storici e paesaggistici. Se noi partiamo da quella che è l'origine latina della parola cultura, che è coltivare, io credo che le istituzioni debbano coltivare la tutela della storia delle nostre comunità, che è fonte di memoria ma è anche e soprattutto fonte di ricchezza. Io voglio dialogare e lavorare con gli operatori culturali e credo che la politica debba incentivare il nuovo ma anche valorizzare il presente. Penso ad esempio al potenziamento dell'università e della ricerca, penso alla valorizzazione dei musei e dei siti archeologici e penso anche a una forte azione di promozione di quella che è la cultura dell'arte, della musica e del teatro. Io credo che la cultura è un'arma da cui la politica non può prescindere se vogliamo costruire delle realtà locali, civili, moderne e proiettate verso il futuro e se vogliamo realmente costruire un volano per il turismo e per la nostra economia locale. Bisogna allo stesso tempo promuovere quella che è l'offerta culturale esistente e questa è una finalità che rientra proprio in quelle che sono le competenze delle regioni. La nostra terra è una terra ricca di arte, di storia e cultura e io in regione mi batterò affinché abbiano l'attenzione che meritano. La nostra terra è una terra ricca di arte, di storia e di storia e di storia.